Per il gol del 2 a 1, il gol della Speranza e poi il secondo gol, un gol capolavoro, bel tiro di Peppe Venuto, io di testa, per il gol del 2 a 1, questo campo mi doveva un gol, l'avevo sbagliato contro il... Saluta i tuoi tifosi, un abbraccio a tutti i miei tifosi, se l'articolo sarà pubblicato, prometto davanti a te, non giocherò più a pallone. Ok, arrivederci, la saluto.